Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di film dal passato, oggi vi consiglio un vero capolavoro, il film che Martin Scorsese ha fatto dopo Taxi Driver, New York, New York 1977, e ci sono due o tre cose molto molto interessanti, non so da dove partire, ma diciamone una. È un film che in un certo senso vede Robert De Niro protagonista, ed è come se lui riprendesse il personaggio che fa in Taxi Driver, quindi nevrotico, strano, imprevedibile, però mentre in Taxi Driver lui non ha arte e risolve tutto quanto con la violenza, quindi la violenza è il suo strumento, perché poi è un uomo incapace di comunicare, invece qui abbiamo lo stesso tasso di imprevedibilità, di nevroticità, di nervosismo, qualcosa di molto scattante, di agile nel personaggio di De Niro, però c'è in più anche l'arte, il fatto che lui sia un saxofonista di grande talento. Oltre a questo, sebbene in un modo un po' ossessivo, sa anche comunicare con il mondo femminile, in questo caso qui incarnato da Liza Minelli, strepitosa, e vediamo che tutta la prima parte del film lui la corteggia molto ossessivamente, in maniera insistente, però questa è una delle prime scene iniziali, anche molto lunga, straordinariamente lunga, ma si vede quanto il personaggio di De Niro, Jimmy Doyle, sia veramente insistentuzzo con lei, e però questo suo insistere ripaga, ripaga, e nasce il rapporto, e New York e New York è la storia di questi due, di questa coppia. Lei, cantante, e lui, suonatore di sax, due troppo talentuosi, troppo intelligenti per poter stare veramente assieme, per poter vivere una storia sotto il segno della semplicità, invece si fanno molte menate, e queste menate sono il film. Come dice il buon Martin Scorsese, anche appunto in questo librino qua del Castoro, cito a memoria, è un film, è un film sottilmente autobiografico, perché in quel momento lì Scorsese e sua moglie avevano dei problemi, De Niro e la moglie avevano dei problemi, e questi problemi di coppie, cioè delle due coppie, si riflettono nel film, che appunto è un film che parla di questa tematica qui, però in contrapposizione con anche tutta la parte di musicalità, perché, attenzione, questo film qui viene scambiato per un musical, invece non lo è, non è che la gente appunto balla, però ci sono delle scene dove la Esaminelli canta, e la cosa bella è che le scene appunto artistiche, dove Robert De Niro suona il sax e lei canta, e tra parentesi la canzone New York New York, che è famosissima, è stata scritta apposta per questo film, e mentre la canzone ha spopolato nel mondo, invece questo film qui è stato uno stranissimo, in successo per Scorsese, ma quindi stavo dicendo contrapposizione, da una parte i problemi di coppie, le nevrosi, dall'altra l'arte, è tutto quanto raccontato da Scorsese, in un modo molto interessante, perché, vabbè, registicamente fa carrellate lunghissime ed eleganti, e crea immagini indimenticabili, ma, per esempio, lavora molto sulle scenografie, e sono scenografie straordinariamente false, cioè, esplicita il fatto che sono scenografie che ricostruiscono una New York in studio, a parte qualche esterno vero, comunque è esplicitamente tutta quanta ricostruita, e non nasconde questo, anzi, lo esalta, lo sottolinea, e quindi è un film che, formalmente, formalmente parlando, è molto basato sull'artificio scenografico, una fotografia anche che cromaticamente rimanda molto al cinema degli anni 40, il film si svolge negli anni 40, quindi film densissimo di citazioni. Oltre a questo, oltre a questo, non è soltanto un film, è grande cinema, perché, scusa, faccio sempre la distinzione, il film è soltanto quella cosa dove il regista essenzialmente ti racconta la storia, inizio, svolgimento, fine, ciao, buonanotte. Il cinema è quella cosa che fa Bertolucci, Coppola, Antonioni, Fellini, dove praticamente a volte si va anche a creare un'immagine, un'immagine indimenticabile, un'immagine meravigliosa, che, se vogliamo, non porta avanti la storiuzza, ma è un'immagine che vive di se stessa, cioè che vive per se stessa, diciamo quasi come fosse pittura. E allora qui, New York, New York, abbiamo anche, mi viene in mente, un punto anche di cinema, verso l'inizio, che amo molto, dove Robert De Niro sale su, per questa scala di ferro, e da su, guarda giù per strada, e si vede una coppia di ballerini che stanno facendo un balletto per conto loro, lì in strada, illuminati da un lampione di notte. Una scena, se vogliamo, antirealistica. Non è che dovunque giri di notte trovi dei ballerini che fanno così, non c'è una pretesa di realismo, ma la scena in sé è bellissima, poetica, un momento di pausa contemplativa, bella, bella, uno di quei momenti che nutre il film e nutre noi spettatori, proprio perché ci ricorda che la narrazione non è soltanto azione, la narrazione è anche pause di grande contemplazione giapponese, questo ed altro, comunque essenzialmente questo. Quindi, tirando le somme, cercando di fare una sintesi un pochettino, è un film molto lungo, molto lungo, con una fotografia bellissima, se lo trovate in DVD o in Blu-ray ve lo consiglio perché la fotografia merita veramente tanto, Robert De Niro gioca a strabiliare perché si cala totalmente dentro questo film, ecco, diciamo, uno dei punti di forza del film, a parte la bravura degli attori, ecco, a parte proprio quello di Minelli strepitosa. vi racconto un aneddoto, c'è una scena verso il finale dove lei pensa a un ricordo, c'è un primissimo piano sugli occhi di lei e sembra veramente che sta ricordando qualche cosa, lei lo racconta nel contenuto extra del DVD, in realtà Scorsese gli ha detto semplicemente tieni gli occhi fermi e non batterli. no, l'effetto è un po' diverso, a lei riesce molto bene, con gli occhi fermi, con quegli occhioni che ha, tiene fermi e non li batte e sembra che sia in me se non chissà quale ricordo, invece lei dice non stavo pensando assolutamente niente, pensavo soltanto a non battere le palpebre. Ecco, dicevo, il grande fascino di questo film sta proprio nel fatto che ci sono quasi queste due forze, queste due forze, quindi una messa in scena falsissima, meravigliosamente falsa, citazionista, scenograficamente esasperante quasi, questo in contraposizione con questi due talenti attoriali che emergono con grande slancio, Robert De Niro ha imparato veramente nell'arco di otto mesi a suonare il sax, perché lui è un pazzo perfezionista, quindi doveva suonare veramente quelle parti al saxofono, quindi un insuccesso di Scorsese che però dimostra che il pubblico a volte si sbaglia, si sbaglia e ci può essere grandissima vitalità e cose interessantissime dentro un film, anche che magari al suo uscire non ha visto quasi nessuno e che tutti ricordano per la bellissima canzone, ma che è da rivedere, da amare, è uno di quei film, ecco, è uno di quei pochi film come Il Conformista, Ultimo Tango a Parigi, La Dolce Vita, 8 e mezzo, La Conversazione, Apocalypse Now, quei pochi film che a volte io mi riguardo un pochettino così per gasarmi, per sentire che mi sostengono l'anima, e quindi è questo, anche se la luce del giorno è ancora assolutamente dolcissima, io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte ciccetti, a presto, buonanotte ciccette, buonanotte ciccetti, a presto.